Ciao a tutti, perché Chiara Ferragni guadagna così tanto e perché tante persone ne sono scandalizzate? Gridano lo scandalo. Allora, cerchiamo di analizzare un attimino la questione. Chiara Ferragni guadagna postando, semplicemente mettendo dei post di moda sulla sua pagina Instagram. Perché ci sono degli sponsor che pagano affinché lei appunto sponsorizzi una marca piuttosto che un'altra nell'ambito della moda, ma non solo nell'ambito della moda. E quanto guadagna non lo so, però mi sembra che nel 2014 la dichiarazione del reddito era di circa 8 milioni di euro. Sicuramente dal 2014 al 2019 sarà aumentata moltissimo. Ci sono degli influencer che guadagnano anche 10, 20 mila, 30 mila euro a post. Quindi, mentre le persone normali postano, come dire, gratuitamente, nessuno magari si va a vedere i post, gli influencer vengono profumatamente pagati per ogni post che mettono su Instagram. Ovviamente influencer che sono seguiti da tanti followers. Chiara Ferragni ha tanti followers, milioni di followers. E allora uno dice, ma perché guadagna così tanto? Io la domanda credo che sia mal posta. La domanda ben posta dovrebbe essere, ma perché le persone si fanno influenzare così tanto dagli influencer? Come si fanno influenzare dalla pubblicità? E poi gli stessi che si fanno influenzare sono quelli che gridano lo scandalo, no? Gridano che Chiara Ferragni, che ne so, vendeva l'acqua minerale col marchio Chiara Ferragni, non so, quei 10 euro bottiglie, 8 euro, non mi ricordo quanto fosse la cifra. Comunque una cifra molto superiore all'acqua normale. Non è scandaloso che venga venduta l'acqua a 10 euro la bottiglia. E poi le persone dicono, eh vabbè, ma ci sono persone che muoiono di sete, qua non è possibile vendere l'acqua a 10 euro la bottiglia. E il problema di vendere l'acqua a 10 euro la bottiglia, il problema semmai è capire perché ci sono persone che per avere l'acqua griffata Chiara Ferragni, che è la stessa acqua diciamo, non griffata Chiara Ferragni perché l'acqua è acqua insomma, poi vabbè può cambiare la marca un po', però come dire, la stessa marca, non so che marca fosse, la compravi senza la griffa, la pagavi 10 volte di meno ad esempio, quello che è insomma, non so. E perché le persone hanno questa cosa qua? E poi probabilmente sono gli stessi che da un lato comprano, da un lato sono influenzati e dall'altro lato criticano. Quindi non è, diciamo, non dobbiamo renderci conto, è un business, ma il business lo fanno le persone. Le persone che vanno a, diciamo, a etichettare una persona come capace di, si lasciano influenzare da una persona piuttosto che da un altro. Ma quindi io direi che è la capacità della persona di influenzare le masse. Quindi diciamo che da Chiara Ferragni dovremmo imparare come ha fatto lei ad ottenere questi risultati, perché anziché criticare e fare, cerchiamo di imparare e facciamolo anche noi. Perché se una persona mi dice, ah vabbè, ma perché qua, là, su giù guadagna troppo, e fallo pure tu, fatti pagare pure tu, perché a te non ti pagano e a lei la pagano? Perché lei, quando mette un po', è stata capace, diciamo, di creare su un'audience e di influenzare quest'audience. E quindi le scelte che fa lei vengono seguite da tante persone. Questo è semplicemente una legge, nessuno le regala niente. Gli sponsor che la pagano per questo è perché ne hanno un ritorno, ovviamente, altrimenti non lo farebbero di sicuro. Quindi dovremmo essere noi in grado di farci influenzare di meno dai media, dalla pubblicità, dagli influencer, quindi il lavoro parte sempre da noi stessi. Bene, per questo video è tutto. Iscrivetevi a questo canale YouTube, seguitemi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, che non ha i follower di Chiara Ferragni, neanche 3000, vabbè, fateli crescere, dai, un pochino, e poi iscrivetevi anche al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui vi posto il link in descrizione. Ciao a tutti.